Grande sfida in chiave playoff domenica pomeriggio a Liguori che vede la Turris sfidare Lavellino, una delle candidate principali alle primissime posizioni in classifica. I corallini reduci da un importante filotto di quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali sull'ostico campo di Francavilla si presentano al cospetto dei biancoverti, forti di un più quattro in classifica, difficile da pronosticare a questo punto del campionato. Mister Bruno Caneo deve far fronte ancora alle assenze di Ghislandi e Longo, che ancora non si allenano in gruppo, mentre saranno aggregati alla prima squadra due elementi del Vivaio, il classe 2004 Nocerino e il classe 2005 Lombardo. Gli Irpini, allenati dall'esperto Braia, devono invece fare a meno dello squalificato Aloy, ma punteranno le loro speranze offensive sull'ottimo momento di forma di Maniero. Prevista una gran cornice di pubblico allo stadio di Via Lungheria per una partita annunciata tra le più importanti della giornata.